urb art è un progetto che sta trasformando alcuni alberi che il comune di padova dovrebbe tagliare perché malati o instabili in opere d'arte le sculture linee realizzate da artisti professionisti restano radicate in loco e vanno a creare una galleria d'arte permanente in quartieri periferici è così che in via sacro cuore zona altichiero due grossi platani sono diventate sculture grazie alle sapienti mani di mauro pietro gandini e matteo gandini sono mauro pietro gandini sono matteo gandini scultore e pittore insegnante sono un artigiano e scultore abito in provincia di lecco ho lavorato in tanti ambiti diversi commerciali meno commerciali e nell'ultimo periodo invece sto provando a lasciare un'impronta mia quindi dire qualcosa di mio qui ad altichiero ho realizzato una scultura un paesaggio marino con una figura che si sta tuffando dall'alto di una scogliera non ha un particolare significato metaforico a ognuno può avere la suggestione non so il tirarci fuori significato che preferisce ho realizzato una scultura sono tre metri di scultura è una ragazza che si rivolge al cielo in realtà vedrete lo toccherà e quindi rimarrà macchiata il colore quindi io voglio unire i colori della terra quelli che ha l'albero in sé al cielo quindi a tutto il significato che possiamo dargli ognuno gli darà il suo grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti